Ciao a tutti, buongiorno, buon sabato mattina e ben ritrovati sul canale. Oggi concludiamo la settimana di Cannotv parlando di cinema e più nello specifico parliamo di uno dei più grandi noir che siano mai stati realizzati ai tempi della vecchia Hollywood. Stiamo parlando di La Fuga, un film del 1947 diretto da Delmer Davis e interpretato da quella che molto probabilmente è la più grande coppia del noir cinematografico, ovvero Humphrey Bogart e Lauren Bacall. Delmer Davis, il regista di questo film, è stato un autore molto importante nella Hollywood del tempo. Qualche anno dopo questa pellicola avrebbe diretto L'albero degli impiccati con Gary Cooper e soprattutto Quel treno per Yuma, la prima grande versione con Glenn Ford e Van Eflin con la celeberrima colonna sonora di Frankie Lane. Ma questo film è anch'esso un capolavoro, è un noir unico nel suo genere. Humphrey Bogart, il grande Bogart, il più grande divo che la storia del cinema ricordi assieme a Rodolfo Valentino e a pochi altri, in questa pellicola interpreta Perry, ingiustamente accusato dell'omicidio di sua moglie. È rinchiuso in carcere ma riesce ad evadere e dopo una rocambolesca fuga trova rifugio, trova asilo, insomma, in una donna misteriosa, Lauren Bacall, che decide di aiutarlo a scovare i reali responsabili dell'omicidio della moglie. Si scoprirà strada facendo nel film i motivi per cui Lauren Bacall accetta di aiutare Bogart in prima persona, rischiando anche particolarmente. Ma la particolarità del film non è questa. Bensì l'idea che Bogart, a un certo punto, giunto intorno a metà pellicola, al fine di agire più liberamente nelle sue indagini, evitando quindi di essere braccato dalla polizia che lo ricerca per evasione, decide di sottoporsi ad un'operazione chirurgica per cambiare, per stravolgere i propri lineamenti facciali. Un escamotage sicuramente molto originale che viene giocato anche in maniera molto interessante seguendo le classiche regole del genere noir e quindi permettendo a Delmer Davis di dimostrare tutto il suo geniale talento nel campo. Il film per la prima metà è girato in soggettiva. Noi non vediamo il protagonista del film fin quando non si sottopone a questa operazione facciale, per cui Bogart compare soltanto dopo la metà del film. Noi il vero volto del protagonista del film non lo vediamo mai, ne vediamo soltanto le sue mani e questo escamotage molto interessante ci coinvolge anche molto di più, è come se noi fossimo il protagonista del film. Quindi c'è anche un ritmo molto incolzante, una sorta di angoscia data anche dall'atmosfera molto torbida come era routine, diciamo, di quel genere cinematografico. La decisione di far entrare Bogart, che era il divo del film, la star principale, soltanto a metà pellicola non venne inizialmente accolta bene perché la gente, insomma, voleva vedere il divo. Per cui una delle, come posso dire, delle problematiche del film era proprio il rischio che il pubblico non avrebbe ben gradito questa scelta, volendo vedere fin dalle prime immagini il loro beniamino. Si cambiò idea dopo un film della Metro Goldwyn Mayer che uscì nello stesso anno intitolato Una donna nel lago, interpretato e diretto da tale Robert Montgomery, un film che aveva come protagonista l'ispettore Marlow che tra l'altro Bogart aveva interpretato qualche tempo prima nel celeberrimo Il grande sonno e anche in quel film era presente lo stesso escamotage, ovvero il volto del protagonista, in quel caso il volto dell'ispettore Marlow, non lo si vedeva praticamente mai, lo si vedeva soltanto quando esso si specchiava. Per cui dopo l'uscita di quel film che riscosse un buon successo al botteghino si decise di procedere con la realizzazione di questo noir del 1947, La Fuga, Humphrey Bogart, Lauren Bacall. Un capolavoro da vedere, rivedere, piccolo consiglio, se intendete recuperarlo, cercate di recuperarlo con il doppiaggio originale. Io lo posseggo in DVD, l'ho acquistato su Amazon intorno ai 10 euro, forse ancora disponibile, non lo so, ma cercate sempre di guardare questi vecchi film, soprattutto quando si parla di film degli anni 30, 40 e 50, con il doppiaggio originale. Quindi evitate le edizioni ridoppiate perché, per quanto siano eccellenti, i doppiatori di oggi non si adattano allo stile di recitazione dell'epoca. Sarebbe un po' come ascoltare, non lo so, Emilio Cigoli, il celebre doppiatore di John Wayne, Gregory Peck e molti altri, su Ryan Gosling o Christian Bale o tanti attori contemporanei. Ci sarebbe qualcosa che non va. Detto questo, io vi consiglio ancora una volta a questo grande film, se volete addentrarvi nel genere noir, nei noir dell'epoca, che sono anche fondamentali per tutto un tipo di fumetto, da Diabolic, a Nick Ryder, a Giulia, a Leopalp e tanti altri, scendono direttamente da qui. Anche le atmosfere di Max Bunker e Magnus sono nei vari criminal, satanic, Alan Ford, sono direttamente prese da tutto questo genere cinematografico. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata, una buona domenica, noi ci rivediamo lunedì con un'altra settimana piena di fumetti e cose varie. Se avete visto questo film, ovviamente, fatemelo sapere e ditemi anche che cosa ne pensate di Bogart, della Bacal e di tutto quel cinema ormai appartenente al tempo che fu. Ciao a tutti, alla prossima!